Non lo conosco personalmente, ho letto quello che avete scritto voi, ho letto le cose. È una persona come tante, ha messo in vita, 17 anni. È chiaro che se hai 17 anni in un posto e ti crei clientele, ti crei situazioni, poi ha dei figli, io ho dei figli, quindi oggi i figli devono stare attento ai figli. Ma infatti non c'è nessuna societazione per questa gente. Deve andarsene a restituire quello che ha dato, quello che ha preso, e non deve più avere incarichi pubblici e maneggiare soldi.